Nuove attività commerciali che aprono a Pesaro. Nella terra dei piloti e dei motori ecco il nuovo Yamaha Store. Il concessionario ufficiale della provincia di Pesaro Urbino per il brand Yamaha si trova ora nell'interquartieri in via Sandro Pertini dove c'è questo nuovo spazio espositivo davvero ampio di circa 1000 metri quadrati in cui gli appassionati di moto e di Yamaha possono davvero sbizzarrirsi. Noi siamo un gruppo di NG Motorsport che ha voluto aprire la nuova sede qui a Pesaro perché Pesaro è terra di motori quindi abbiamo aperto il nuovo store Yamaha ufficiale dove troveremo tanti modelli della gamma Yamaha spazia dall'enduro agli urban mobility, gli scooter, al T-Max, conosciuto T-Max, al nuovo T7. A breve arriveranno varie novità 2021, poi abbiamo un angolo dedicato all'abbigliamento e abbiamo anche tanti usati avendo un gruppo che parte da Carpi a Rimini e anche qua a Pesaro adesso e quindi abbiamo un vasto assortimento di usato moto. Poi abbiamo un'officina, un'officina molto attrezzata, completamente nuova, all'avanguardia. Sono tanti i clienti affezionati, alcuni molto riconoscibili, so che Vasco Rossi è ad esempio uno dei vostri appassionati clienti. Sì, Vasco è un nostro cliente e abbiamo fatto per lui delle moto molto particolari, esemplari unici una su base XSR 900 e una su base Tracer e quindi siamo felici che ci serva nel gruppo di NG Motorsport.